Come si può migliorare e cambiare? Come si può migliorare, di attirare e soprattutto di avere volumi di attività adeguati per garantire qualità e sicurezza ai nostri pazienti. Quindi abbiamo ribadito la necessità che in sanità certamente ci sia la formazione, ci sia la competenza professionale, l'eccellenza clinica, ma dobbiamo ricordarci che dobbiamo misurarla, dobbiamo confrontarla, confrontare quello che succede in una regione rispetto all'altra, utilizzando dei sistemi che ci consentono di fare dei confronti equi, se no una regione dice i miei malati sono più malati e i tuoi malati sono meno malati, quindi è per quello che io non ho esiti positivi. Invece se noi mettiamo a punto dei sistemi di rendicontazione delle attività dei medici, fatte dai medici, non fatte dai ragionieri o dagli amministrativi, in cui il medico si rendi conta, siamo in grado di fare dei confronti e di lavorare per il miglioramento della qualità dell'assistenza ai nostri pazienti, in particolare cardiologici, ma in generale tutti i nostri pazienti.